Perché, insomma, si sa. Quel giorno John si alzò molto presto dal suo letto e si mise a guardare fuori dalla finestra. Pensava a tutto e a niente. Il caffè era finito e non trovava i vestiti puliti. Quindi, caldo, faceva caldo, ma John non disperava. Improvvisamente un rumore spezzò il silenzio di quel mattino di luglio. John corse giù dalle scale, spaventato. Si guardò intorno con molta attenzione. Aveva paura, molta paura. Con passo felpato, entrò nella sala padronale, dove i quadri, con i ritratti dei suoi avi, lo guardavano severo. A un certo punto lo vide. Era in mezzo alla sala. John trasalì, ma non si perse d'animo. Apri lo sgabuzzino e prese scopa e paletta. E cominciò a raccogliere i pezzi di quel silenzio che era stato rotto da un rumore. «Non male come inizio giornata!» pensò John. Intanto delle nuvole coprirono il sole. «Non male come inizio giornata!» pensò a raccogliere i pezzi di quel silenzio che era stato rotto da un rumore. «Non male come inizio giornata!» pensò a raccogliere i pezzi di quel silenzio che era stato rotto da un rumore.